Nei vaccini e nei tamponi questo grafene è contenuto e soprattutto cos'è il grafene? Allora, innanzitutto non c'è evidenza scientifica di presenza di grafene nei vaccini o in altri, o nei tamponi o comunque in materiali utilizzati per la lotta a Covid-19. Questo non si evince dalla letteratura scientifica internazionale, si evince da una letteratura alternativa, da ricerche molto poco fatte in maniera non proprio professionale, da alcuni medici, biologi o veterinari, non lo so, però queste ricerche non sono state pubblicate, perché sembra che abbiano evidenziato la presenza di grafene in uno dei due vaccini mRNA. Che cos'è il grafene? Il grafene è in pratica, sono atomi di carbonio uniti fra di loro, formano praticamente una rete sottilissima dello spessore di un atomo di carbonio, quindi veramente molto molto piccola. Ovviamente si stanno facendo degli studi su questo grafene, si è visto ad esempio che ha una importante azione antivirale, è stata utilizzata questa sostanza anche nell'industria, ad esempio per la fabbricazione di racchette da tennis o addirittura di, se ricordo bene, ruote o comunque forse materiale insomma utilizzate nella costruzione di biciclette da corsa. Ma comunque viene utilizzato anche in altre maniere. È una frontiera della scienza perché si sa cos'è e non sappiamo ancora come funzioni. Stanno facendo degli studi di tossicità in tutto il mondo e al momento non si evince nulla. Sembra che possa però, se inalato, dare problemi a livello delle vie respiratorie. Altro, francamente non saprei dire, ma di certo questa sostanza che potrebbe essere utilissima per tutta una serie di applicazioni anche in farmacologia o comunque in medicina, oltre che nell'industria, o in ingegneria. Altro non saprei dire, però di sicuro questo grafene non è presente nel vaccino. Molto chiaro. Lei si è sempre detto favorevole all'obbligo del vaccino perché questa è l'unica arma che abbiamo, vaccinarci però vaccinarci tutti. D'altronde lo stesso Brusaferro ha detto che occorrerà molto probabilmente la terza dose per tutti quanti. Ma io queste cose le vado dicendo da parecchio tempo. Cioè che questo vaccino deve essere obbligatorio e deve essere obbligatorio per tutti i cittadini del mondo perché, ripeto, il problema attualmente non è variante Delta, perché per i vaccinati ovviamente non è variante Delta, perché questa variante viene comunque abbastanza osteggiata dai vaccini. Il problema è, o sarà, la nascita, la formazione di nuove varianti che riescano a bucare i vaccini. E purtroppo è proprio nei paesi del terzo mondo, laddove non si è vaccinato nessuno, che queste varianti si stanno formando, realizzando. Di conseguenza è naturale che solamente un obbligo vaccinale può mettere a riparo la specie umana da questa virosi e da questa pandemia. Per quanto riguarda la terza dose, certo che sono favorevole. Sono favorevole perché sappiamo che la famiglia dei coronavirus, nell'interazione con l'ospite umano, genera un'immunità che però non riesce ad essere duratura. Cioè, nei casi più fortunati, magari in un giovane con un buon sistema immunitario, probabilmente si ha la copertura per 12-14 mesi. Però la mediana è di 9-12 mesi, che significa che i soggetti più anziani, che hanno un sistema immunitario, ovviamente, probabilmente non riescono ad essere coperti fino a 8-9 mesi. E quindi, secondo me, tra i 6 e gli 8 mesi andrebbe riproposta l'inoculazione, quindi la terza dose. Dovremmo poi vedere cosa succederà relativamente alla pandemia, perché se le cose andranno così come le stiamo osservando, probabilmente ci sarà una quarta, una quinta, una sesta, eccetera, eccetera, dose. Perché, torno a ripetere, se non ci vacciniamo tutti, e per tutto intendo quasi 8 miliardi di persone nel mondo, probabilmente avremo a che fare con questo virus e con la virulenza e la patogenità di alcune varianti per molti anni.